Queste sono due piantine di mirto sardo, che è tipico, il mirto è tipico della Sardegna. Perché in Sardegna si dice Samurta, perché Samurta, perché femminile? Perché l'origine, questo mito, di questa fanciulla, Mirsina, che vinse ai giochi contro dei maschi forti, e allora uno, bastardo, la uccise e la Dea Tena la trasformò nel mirto. Samurta, noi con questo ci facciamo il mirto. Questa bevanda viene fatta col filo e ferro, perché così diventava il filo e ferro a 97 gradi, e viene un liquore che è un bijou. Noi diamo il nome a tutte le bacche, perché ogni bacca ha il suo nome. Messadino, Madaghella, Sassato, Tucupuniru, Geninu, Ruccaru, Carrububunigo, Mirto, Sattalina, Franco e Catap...